Innanzitutto è molto importante che sia stato inserito in Costituzione non un generico sviluppo sostenibile, ma la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, il riferimento alle future generazioni, i diritti degli animali, il tema che le attività economiche devono rispettare la salute e l'ambiente, sono valori fondamentali che permettono adesso di fare la battaglia successiva, che è quella di fare in modo che le leggi dello Stato e le sentenze dei tribunali tengano conto di questo, che quindi la biodiversità sia garantita e io credo anche si rilanci il discorso che abbiamo bisogno di una forte strategia nazionale per la tutela dell'ambiente, la biodiversità e per avere veramente quella transizione ecologica e digitale che però deve rispettare l'ambiente, non essere solo tecnologia.